Siamo al quinto piano dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, qui la prima nata della provincia di Lecce. Ringraziamo per aver accettato di riceverci, Mamma Liana. Tanti auguri. Grazie, grazie mille. È stata inaspettata come data perché la data presunta era qualche giorno prima, per cui si aspettava o che nascesse a Natale o a Capodanno o dopo. Invece ci ha sorpreso tutti quanti, infatti tutta l'equip che ringrazio, approfitto di ringraziare, sono stati molto celeri nell'accettare la sua richiesta di venire al mondo il prima possibile, fra la notte di Capodanno e il primo. Ricordiamo che si chiama intanto Amanda. Quanto pesa? Pesa 3,2 kg, anche questo è inaspettato perché pensavamo un po' di più, però tutto sommato 49 cm, insomma, quindi è una bambina sana, questa è l'importante. Non si sanno ancora le somiglianze, quindi non ce lo chiedete perché ancora non lo sappiamo, però l'importante è che è andato tutto bene, siamo felicissimi. La prima? È la prima nostra figlia, sì. Voi siete di Casarano, giusto? Siamo di Casarano, mio marito è di Casarano, ha aspettato tutta la notte in modo solo empatico perché per scelta non abbiamo voluto che fosse presente nel parto, però poi è entrato nel momento della nascita, abbiamo scelto insieme il nome una volta che l'abbiamo poi vista. Questa è una cosa importante, diceva da Casarano, da Casarano è venuta a Tricase nonostante ci sia un ospedale ma che non ha appunto nascita. Quello di Tricase è un ospedale davvero importante con numeri abbastanza elevati, è vero? Sì, noi abbiamo un reparto che lavora tanto, cerchiamo di dare il massimo sempre. L'equip di stanotte, le ostederiche sono state vicine alla signora costantemente e abbiamo cercato appunto di non far mancare mai nulla sia alla mamma che alla nostra Amanda. Quanti i nati nel 2023? Intorno ai 1100, 1140, 1141 insomma. Anche da altre province vengono a Tricase? Sì, sì, assistiamo parti anche da altre province. Tipo Brindisi è vero? È vero, è vero, sì. Perfetto, da Tricase è davvero tutto, ancora auguri a mamma e alla piccola Amanda, tanti auguri e la linea può tornare allo studio.